Rete Ferroviaria Italiana ha programmato importanti attività di manutenzione straordinaria sulla linea che collega la campagna alla Puglia fra Battipaglia e Taranto, passando per Potenza e Metaponto. Per questo motivo il Frecciarossa che collega Taranto a Milano, toccando le principali città servite proprio dall'alta velocità, sarà sostituito con autobus fra Battipaglia e Taranto, in coincidenza con l'arrivo e la partenza del treno. Anche gli intercity sono sospesi in questo periodo nel tratto interessati dai lavori. I collegamenti mantengono le stesse fermate anche nei tratti percorsi in autobus. Gli autobus sostitutivi sono previsti anche per i regionali di Trenitalia nei collegamenti Taranto-Potenza-Salerno e viceversa, e fra poi Napoli e Salerno. I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con le modifiche, così come tutti i canali di informazione di Trenitalia. I lavori sono stati programmati per limitare il più possibile i disagi, allo stesso tempo consentire di migliorare la gestione della circolazione dei treni. In particolare saranno realizzati interventi per il completamento e l'attivazione del nuovo piano regolatore regionale nelle stazioni di Baragiano e Bellamuro, che garantiranno migliori performance dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare saranno realizzati interventi per il completamento e l'attivazione del nuovo piano regolatore generale.